Aggredito almeno tre donne, di cui due minorenni, e se la polizia non lo avesse arrestato, probabilmente ci avrebbe ancora provato. Un ragazzo nigeriano di 32 anni è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Termoli, su ordine del giudice Rosaria Vecchi, con l'accusa di violenza sessuale. 30 giorni di indagini serrate, con una prima denuncia, un primo episodio risalente al 3 marzo, quando nel sottopassaggio della stazione di Termoli l'uomo ha aggredito una studentessa. La spinta contro il muro ha cercato di immobilizzarla, iniziando a baciarla e a toccarla. La ragazza è riuscita a liberarsi, a scappare, e una volta a casa ha raccontato tutto ai genitori che hanno fatto la prima denuncia. Dopo alcuni giorni ci sono stati altri due tentativi, uno nei pressi dello stadio, sempre come vittima una minorenne, e l'altro nella zona del cimitero. Le descrizioni dell'aggressore erano sempre simili, e la svolta è arrivata qualche giorno fa, quando il nigeriano è stato visto sempre nei pressi della stazione dalla sua prima vittima, che anche in un'altra occasione, dopo l'aggressione, era stata seguita dall'extracomunitario. La ragazza ha subito chiamato il 113 e quando i poliziotti sono arrivati, il 32enne ha capito che erano lì per lui ed è scappato. Nella fuga ha perso il giubbotto e il cellulare. Quest'ultimo è stato decisivo per risalire la sua identità, e una volta acquisite le foto ed effettuato il riconoscimento da parte delle vittime, il giudice ha firmato l'arresto. L'uomo è stato prelevato dagli agenti del commissario Vincenzo Sullo, mentre si trovava negli uffici delle politiche sociali del comune di Termoli, dove era andato a chiedere ospitalità per la notte in una struttura. Il 32enne, infatti, è un senza fissa di Mora. Arrivato in Italia, in Molise nel 2017, da circa un anno gli era stata revocata la misura di accoglienza per cattiva condotta all'interno del centro a cui era stato assegnato. Da allora vagava tra vari paesi e province limitrofe, avendo sempre come punto di riferimento Termoli. Lo scorso dicembre era stato anche arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il commissario non ha escluso che il nigeriano sia il responsabile di altri episodi di violenza, che però non sono stati denunciati. La sua situazione dunque potrebbe aggravarsi. Dato il profilo psicologico che abbiamo ricostruito dell'autore del reato, riteniamo che possa aver compiuto altri gesti del genere nei confronti di altre donne che magari allo Stato non hanno presentato denuncia. Diciamo che le due ragazze, insieme a una terza, che è un maggiorenne, che ha presentato appunto denuncia presso il commissariato, ci ha permesso di identificare il soggetto grazie alla descrizione, anche attraverso un'attività di riscontro di tipo testimoniale effettuato da alcuni testimoni e anche da soggetti riconducibili ad alcuni centri di accoglienza.